Pronto? Sono Babbo Natale! Ssh! Vorresti parlare di... Secondo... Che cosa ha fatto? Oh, eccolo qui! Oh, ciao! Secondo! Che bella sorpresa! Ho ricevuto una telefonata dalla tua migliore amica. Dopo averci parlato, ho pensato di dare una controllata ai tuoi dati. La tua migliore amica vuole assicurarsi che tu sia sulla lista dei buoni, anche se... Parli troppo! Prima di prendere una decisione, ho bisogno delle informazioni raccolte da Sanoma. Vediamo che cosa dice di te. Sembra che tu non abbia dimostrato grande impegno quest'anno. Secondo... Mi dispiace, ma per ora non meriti la lista dei buoni. Grazie! Grazie!